Gestire l'emergenza coronavirus non è stato e non è facile e quindi rimarcare gli errori di chi ha dovuto farsene carico sarebbe un po' ingeneroso, ma non possiamo fare a meno di evidenziare alcuni problemi che, non appena possibile, bisognerà in qualche modo affrontare. Una prima questione, forse la più importante, riguarda il coordinamento fra i diversi organi dello Stato. La vicenda è abbastanza nota, ma proviamo a riepilogarla. Nella mattinata del 25 febbraio, nel corso di una riunione fra governo e regioni, si concorda sul fatto che le scuole vanno chiuse solo nelle regioni in cui vengono rilevati pazienti positivi al virus. Ma nel pomeriggio il presidente della regione Marche decide di andare per conto proprio e firma l'ordinanza di chiusura. Conte si irrita e annuncia che impugnerà il provvedimento. La Calabria, invece, si adegua e accantona una ordinanza che era praticamente già pronta. Nel frattempo, diversi comuni della Campania decidono la chiusura delle scuole. La stessa cosa accade a Palermo, a Napoli, a Messina, che però motivano l'ordinanza in modo diverso. Si chiudono le scuole per poter effettuare una pulizia a fondo e per poterle sanificare. A quel punto Conte ammette che, se la motivazione è quella, non ha obiezioni da fare. Ma intanto si incominciano a toccare con mano i primi effetti dei provvedimenti di governo e regioni. Per la verità, di alcune misure risulta difficile capire i motivi. È il caso, ad esempio, della chiusura delle chiese, dei musei, dei teatri, mentre continuano a funzionare treni, autobus metropolitane. Sulle strutture alberghiere intanto fioccano rinunce e cancellazioni di prenotazioni. Gli operatori turistici parlano di un calo delle entrate senza precedenti. La cancellazione improvvisa di manifestazioni di grande rilevanza, come per esempio la fiera del mobile a Milano, viene letta nel resto dell'Europa come il segnale di una situazione sanitaria ormai fuori controllo. Ed ecco che mercoledì quasi improvvisamente cambia la strategia. La ministra Azzolina annuncia che, d'ora in poi, non ci saranno più provvedimenti generalizzati, ma chiusure molto mirate e riferite ad aree territoriali circoscritte. L'escamotage ideato a Napoli e a Palermo, cioè chiudere le scuole per poterle igienizzare e sanificare, prende piede e così nella serata di mercoledì il governatore della campagna De Luca firma anche lui un provvedimento con la stessa motivazione. A Cetraro, in provincia di Cosenza, il sindaco firma addirittura una ordinanza di chiusura per poter provvedere alla disinfestazione e alla derattizzazione delle scuole della cittadina. Si tratta ora di vedere se davvero in tutte queste località si procederà alla sanificazione dei locali. Ma il punto però è un altro. Da tutta la vicenda emerge con chiarezza che l'emergenza è stata gestita in ordine sparso, senza un coordinamento a livello nazionale e alle volte con iniziative diversificate contrastanti all'interno della stessa regione. Le scuole per parte loro stanno facendo tutto ciò che possono, anche di più. In diverse realtà sono state avviate iniziative di lezioni a distanza, come per esempio all'istituto tecnico Tosi di Bustarsizio e al comprensivo di Lozzo a Tesino, situato tra l'altro proprio in un'area rossa blindata e controllata dalle forze dell'ordine nel Veneto. Viene da commentare che forse la scuola italiana meriterebbe di essere governata un po' meglio e soprattutto con una maggiore collaborazione fra tutti gli organi dello Stato. Questo è il tema del giorno, quindi noi continueremo ad occuparcene, continuate a seguirci su questo canale e anche nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni e noi ne daremo conto come sempre.